Benvenuti a Tecnoideal Mirandola. Da 1985 abbiamo designato e prodotto automazioni per la industria di medici. Siamo qui per presentare un'unica macchina in questo genere. Grazie al B&R Acropost truck, siamo ora capiti a vendere, con performance precedenti in termini di produttività, flexibilità e qualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.